Ciao a tutti! Oggi vediamo un tipo particolare di moltiplicazione, la moltiplicazione giapponese. Vediamo come fare, per esempio, 12 per 13. Allora, il metodo è molto carino. Allora, 12, tracciamo una linea per le decine e poi tracciamo due linee sotto per l'unità. Così abbiamo rappresentato il numero 12. Quindi abbiamo rappresentato in orizzontale. Adesso il 13 lo rappresentiamo in verticale. 1 e poi facciamo tre linee. 1, 2 e 3. Adesso il segreto è questo per fare la moltiplicazione. Vediamo, tutti gli incroci disegniamo e procediamo così. Primo incrocio in alto a sinistra, mettiamo 1. Poi consideriamo questi due incroci incrociati. Quindi tre pallini qui, più due qua. Scriviamo 5. E poi consideriamo l'ultimo incrocio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pallini. Quindi 156, 13 per 12, 156. Carino, vero? Proviamo adesso a complicare leggermente e facciamo 15 per 14. Stesso metodo. Tracciamo prima in orizzontale la linea delle decine. Ok? Poi tracciamo 5 linee sotto. 1, 2, 3, 4 e 5 linee. Poi per il 14 tracciamo la linea delle decine. Ok? Che è 1. E poi 1, 2, 3 e 4. E contiamo anche qui gli incroci. Ci vorrà un attimino in più perché naturalmente sono un pochino di più. Ecco fatto qui. Solito metodo. 1, ok? Poi facciamo questo salamino qui incrociato. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E lo scriviamo. Qui sono 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 20. Quindi lo 0 lo conserviamo qua. Il 2 lo riportiamo. Ok? 9, 2, 11. Quindi qui resta l'1. E qua va un 1 in più. 210. Carino, vero? Adesso voltiamo pagina e facciamo un ultimo esempio se volete. 21. Allora adesso le decine sono 2. L'unità è 1. Anzi, è 1 qui. Poi 12. Già ci siamo ritrovati la decina. E qui l'unità. Vediamo un po' adesso con la stessa regola. Allora, facciamo tutti gli incroci. Salamino, qui era 2. Salamino, 1, 2, 3, 4, 5. Altro incrocio 2. Quindi 21 per 12 uguale 252. E possiamo andare avanti all'infinito. Carino, vero, questo metodo? Se vi piace questa metodologia mettete like e iscrivetevi al canale. È tutto gratis. Ciao, ciao!